Nell'ultimo mese le forze dell'ordine hanno svolto una serie di servizi mirati al contrasto della criminalità sul territorio della provincia di Pesaro e Urbino. A partecipare all'operazione la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e le polizie locali di Pesaro e Fano. L'attività si è svolta nel Parco Miralfiore, alla stazione ferroviaria di Pesaro, nel centro storico di Fano e nei locali pubblici di entrambe le città. Otto cittadini stranieri ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica sono stati espulsi dal territorio nazionale e accompagnati oltre frontiera con voli aerei. I controlli poi si sono estesi ai comuni di Vallefoglia e Urbino. Un individuo destinatario di un decreto di espulsione con divieto di ingresso in Italia è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria. Per la detenzione e spaccio di stupefacenti, arrestate cinque persone durante i controlli svolti tra Pesaro e Fano. Eseguiti tre provvedimenti di carcerazione e sequestrate sostanze stupefacenti come marijuana e ashes, sanzionati due circoli e due sale giochi durante i controlli ai locali pubblici. La pianificazione degli interventi si è basata su scenari operativi delineati con l'obiettivo di contrastare l'immigrazione clandestina, lo spaccio di sostanze stupefacenti e il degrado urbano. Il servizio ad alto impatto da parte delle forze dell'ordine proseguirà durante la stagione estiva con l'obiettivo di mantenere alta la guardia contro la criminalità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.